Tommaso Cancellotti, ennesima vittoria, ennesimo tabù sfatato, c'è la panchina del mister appunto al tuo fianco che è in bilico, ma che gol che hai fatto? Sì, ho fatto un bel gol, sono molto contento per questo, è anche il primo tra i professionisti, quindi me lo godo in maniera particolare. Sei stato anche convocato dall'Under 20 di Mr. Bertotto, un ottimo modo per festeggiare. Sì, anche questa è una bella soddisfazione, vado lì con i migliori propositi e poi torno a Castellammare per pensare alla partita con il Foggia. Appunto, prossima partita al Foggia, con qualche certezza in più di aver vinto su un campo difficilissimo come quello di Ischia, ma con tantissima sofferenza. Sì, abbiamo messo tutti noi stessi, la partita è stata una partita complicata, sappiamo che bisogna continuare così, andiamo a Foggia con la mentalità giusta che ci ha portato fino a questo momento. Alla luce di questi risultati così positivi, adesso si è alzata forse un po' l'astricella, qual è l'obiettivo di questa Juve Stabia? L'obiettivo della Juve Stabia è quello di continuare a far bene, partita dopo partita, domenica dopo domenica. Non ci montiamo la testa, restiamo con i piedi per terra e pensiamo di domenica in domenica. Ha detto che questo è il tuo primo gol tra i professionisti, c'è qualcuno a cui dedichi questa rete? Sì, la dedico a tutte le persone che mi vogliono bene, alla mia famiglia e alla mia compagna, una dedica speciale va anche al mio miglior amico e basta.